L'educatrice di un asilo nido di Udine allontanata dalla struttura per l'ipotesi di maltrattamenti, l'indagine avviata dopo le segnalazioni delle colleghe. Sfacciavano ascisce medicinali a base di oppiacei anche negli ambienti del CERT, due arresti tra Udine e Cividale all'opera dei carabinieri. I pagamenti arretrati dei contributi europei agli agricoltori in cima alla lista delle priorità della regione, nostra intervista all'assessore Zannier. Parata di protagonisti allo sponsor day dopo aver esorcizzato l'incubo retrocessione, ora è obbligatorio di portare l'udinese dove merita. Buonasera dalla redazione di Udinews. In apertura di questo nostro Tg, lo avete sentito nei titoli, un nuovo caso, presunto caso di maltrattamenti che ha portato all'allontanamento dalla struttura dove insegnava un'educatrice di un asilo nido di 30 anni circa. La donna è sospettata di aver tenuto dei comportamenti giudicati inadeguati nei confronti dei bambini che accudiva, bambini di età compresa tra i 10 e i 22 mesi. La donna è indagata per l'ipotesi di maltrattamenti continuati a carico di minori affidati per motivi educativi. I carabinieri della compagnia di Udine le hanno notificato in questi giorni la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle parti offese. E Monica Nardini pochi minuti fa ha sentito proprio la comandante dei carabinieri di Udine per avere qualche particolare in più su questa vicenda. Sentiamo l'intervista. Sono stati segnalati degli atteggiamenti ovviamente poco idonei. Non si tratta di percosse ma comunque atteggiamenti che possono avere influito sia fisicamente che psicologicamente e ovviamente su questi bambini di pochissimi mesi. Strattoni, parolacce, parolacce assolutamente no ma diciamo atteggiamenti costrittivi, atteggiamenti poco consoni nel caso in cui questi bambini faticassero a mantenere la calma, periodi di gioco piuttosto che la nanna, ecco questi atteggiamenti. Quanti bambini sono coinvolti rispetto all'attività di queste educatrici? Diciamo orientativamente parlando una decina di bambini. Generalmente i maltrattamenti di cui è accusata hanno riguardato tutti questi bambini? Tutti i bambini che sono stati variamente coinvolti hanno riportato vari casi, in più occasioni anche quotidianamente, atteggiamenti di questo genere. Questa donna quanti anni ha? Possiamo dare qualche indicazione? Possiamo dire che orientativamente ha una trentina d'anni. E del territorio? E del territorio. È stata ovviamente allontanata dalla struttura presso cui prestava servizio, non potrà avvicinarsi alla struttura, non potrà avvicinarsi alle parti offese, in questo caso i bambini. Anche in caso di incontro occasionale dovrà mantenere una distanza di sicurezza. Continuiamo con la cronaca con una serie di incidenti avvenuti sulle strade della nostra regione nelle ultime ore. Un ciclista ha perso la vita a Reana, pare probabilmente a causa di un malore. Questo e altri fatti di cronaca nel servizio di Luciana e Delfonso. Gravi incidenti stradali si sono registrati nelle ultime 24 ore ai danni di due ciclisti e un pedone a Reana del Royale, a Udine, a Pordenone. Il più grave è avvenuto questa mattina a Reana del Royale, dove un uomo, mentre era in sella la sua mountain bike, è stato colto da un malore fatale. Erano da poco passate le 8.30, quando a Qualso, frazione del comune, una donna ha notato un uomo a terra, dando subito l'allarme. Poco dopo, sul posto, sono arrivati i sanitari, ma i soccorsi sono stati inutili. Nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto. Per il ciclista, un 58enne residente nella zona, non c'è stato più nulla da fare. Sul posto, oltre ai vigili della Polizia Municipale, sono arrivati anche i militari dell'arma, che valuteranno insieme ai medici le cause del decesso. L'ipotesi più probabile è che sia avvenuto a causa di un infarto. Una ventenne di nazionalità ucraina, invece, residente a Udine, è stata investita sulle strisce pedonali ieri sera intorno alle 20.45, di fronte all'Istituto Stringer. La dinamica esatta del sinistro al vaglio della Polizia Locale dell'Uti Friuli Centrale, intervenuta sul posto per i rilievi. Da quanto si è potuto apprendere a investire la giovane, è stata una Peugeot 206, condotta da un 43enne di Cormons. La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Udine. Situazione critica anche a Pordenone, dove i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del SORES per supportare il personale del 118, che non disponeva di un mezzo adeguato per il trasporto di un ciclista caduto rovinosamente a terra. A dare l'allarme il compagno di escursione, l'infortunato è stato trasferito su un'auto lettiga e portato all'ospedale del capoluogo. E sempre a Pordenone, poco prima di mezzogiorno, in Viale Franco Martelli, un furgone ha investito un ciclista, un uomo di 48 anni che è stato portato con l'elissoccorso in codice giallo all'ospedale di Cattinara. E poi ancora, sempre per la cronaca, dal Pordenonese, nella zona industriale di Claut, si è verificato un nuovo infortunio sul lavoro, un trauma da schiacciamento. Tre dita della mano di un lavoratore sono state schiacciate e si sta valutando l'ipotesi di un'amputazione delle dita della mano. Il paziente è stato inviato in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Pordenone. Continuiamo con la cronaca adesso, con un'operazione dei carabinieri della compagnia di Cividale, assieme alla Polizia di Stato, sempre del commissariato di Cividale. Un'operazione antidroga, perquisizioni, arresti per spaccio di hashish e medicinali tra Udine e Pordenone. Sono state arrestate due persone, come ci racconta nel prossimo servizio David Zanirato. La droga veniva venduta anche dentro la struttura delle certe di Udine. Per questo, nei guai, sono finiti due quarantenni friulani. Nel corso della mattinata di oggi, i carabinieri della compagnia di Cividale, la Polizia di Stato e del commissariato Ducale hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Udine, nei confronti di due italiani di 40 anni con precedenti per droga. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, era iniziata a fine del 2017. Anche grazie a intercettazioni telefoniche, ha consentito di individuare, nei due pregiudicati, i responsabili di una fitta rete di spaccio di hashish e di medicinali a base di oppiacei, commercializzati sulle piazze di Udine e Cividale, ma pure all'interno della struttura sanitaria preposta alla riabilitazione dei tossicodipendenti. Oltre alle misure in carcere, sono state eseguite anche 14 perquisizioni domiciliari a carico di quattro indagati per gli stessi reati e nei confronti di otto assuntori di droga. L'indagine si è conclusa anche con il sequestro di circa 100 grammi di hashish e numerose confezioni di medicinali contenenti gli oppiacei trovate nel corso delle perquisizioni. Passiamo alla politica adesso. Prima di tutto risolvere il problema dei pagamenti degli allevatori in crisi. Poi incomincieremo a riscrivere le politiche agricole del territorio andando ad ascoltare i diretti interessati in ogni angolo della regione. Si è presentato così il neoassessore all'agricoltura Stefano Zannier. Sentiamolo. Stefano Zannier, neoassessore alle politiche agricole del Friuli Venezia Giulia, rappresentante anche per la Lega Nord della Pordenonese. Dopo questa prima seduta, l'attività da dove riparto? Innanzitutto dobbiamo affrontare con estrema urgenza alcuni temi scottanti che riguardano la sopravvivenza delle aziende agricole. Quindi l'impegno primario è quello di cercare di intervenire su quelli che sono settori che bloccano interi comparti. È chiaro che dire oggi un punto specifico è un po' prematuro. Io sono abituato a fare le cose ragionando e cercando di verificare bene quali sono le attività che se eseguite nel modo corretto possono ottenere un risultato. Questa prima settimana sarà una settimana di adattamento e di conoscenza. Dopodiché alternerò quelle che sono gli interventi urgenti con invece un giro completo del territorio regionale per ascoltare i portatori di interesse e le persone che hanno le esigenze. Perché credo che se non si parte dal territorio poi diventa difficile programmare qualsiasi attività futura. Ma nel suo immaginario l'agricoltura del Friuli Venezia Giulia le politiche forestali e anche l'agroalimentare dove dovranno ambire? Allora, innanzitutto secondo me la cosa principale che dovremmo elaborare è una politica agricola. Perché politica agricola è cosa ben diversa dagli strumenti attuativi quali possono essere tanto contestati a PSR o d'altro. Questi sono strumenti per ottenere la finalità definita all'interno della politica agricola. Io credo che la sfida sia proprio questa di andare a fare per tutti i settori senza pensare che ce ne siano anche all'interno dello stesso uno più forte rispetto ad un altro ma valutando le esigenze di tutti riuscire a definire quei percorsi che secondo me oggi sono ancora carenti specialmente in alcune realtà dove in tutto il resto d'Italia o perlomeno nella parte a livello di agricoltura più sviluppata sono già assolutamente avviati, mi riferisco in principal modo alle filiere in alcuni casi noi siamo ancora molto molto indietro quindi noi dovremmo partire con questo tipo differenziando l'attività a secondo del settore. Ed è sicuramente legata al settore agricolo l'attività del consorzio di bonifica soprattutto per quanto riguarda una delle due funzioni dei consorzi di bonifica ovvero portare l'acqua dove non c'è l'altra funzione del consorzio è quella di togliere invece dove ce n'è troppa ed è proprio di questo che parliamo oggi con il direttore del consorzio di bonifica della pianura friulana Massimo Canali buongiorno e bentornato in studio da noi per parlare di un'iniziativa in programma questa settimana la settimana delle bonifiche quindi appunto ci occupiamo proprio di quell'attività del consorzio che vede togliere l'acqua dove ce n'è troppa nelle zone costiere della nostra regione questo è un problema molto importante, molto presente e nella giornata delle bonifiche che avete organizzato per venerdì volete richiamare l'attenzione proprio su uno di questi impianti ecco la locandina che ci ricorda l'appuntamento di venerdì 25 maggio presso la conca di Bevazzana per raccontare e mostrare un po' come funziona questo impianto che direttore è importante quanto ci dia qualche dato, qualche numero per capire quanto è importante questo impianto proprio per la zona di Lignano in particolare Sì esattamente, questa è la nostra manifestazione a carattere regionale che si inserisce in un programma a livello nazionale per cui parliamo in pratica di consorzi aperti in tutta Italia in questi giorni in questo sito in realtà è uno dei nuovi compiti del nuovo consorzio Pianura Friulana che gestisce un'opera che prima era di proprietà dello Stato adesso della Regione che serve a regolare i flussi delle acque tra il livello del fiume tagliamento e il livello della laguna di Grado e Marano dietro la città balneare di Lignano in modo da evitare anche allagamenti quando il tagliamento ha livelli elevati e la laguna a livelli molto più bassi sostanzialmente è una specie di ascensore per le imbarcazioni quando i due livelli sono diversi in piccolo è un minimo canale di Panama questo è uno dei tanti impianti che sono presenti nella nostra regione in particolare lungo la zona costiera avete in programma la realizzazione anzi la ristrutturazione e il potenziamento di un altro impianto molto importante per la zona di Lignano proprio per evitare gli allagamenti di cui abbiamo parlato anche di recente si tratta di che impianto? si parliamo di una delle tre grandi drovore che sollevano le acque e mantengono l'asciutto la città di Lignano anche quando non piove si tratta dell'impianto situato alla fine di Lignano-Riviera si chiama proprio idrovora di punta tagliamento perché è appunto alla fine di Lignano-Riviera sulla sponda a sinistra del tagliamento un impianto addirittura costruito nella sua prima versione alla fine degli anni 20 che poi è stato rivisto ma necessita soprattutto anche in base ai cambiamenti climatici che si stanno verificando vedasi la bomba d'acqua del 12 settembre dell'anno scorso a Lignano per cui il progetto era già pronto adesso abbiamo avviato le procedure di appalto per ristrutturare e potenziare l'intero impianto inizieremo i lavori in autunno e dureranno circa un anno perché il cantiere è molto articolato perché bisogna fare i lavori senza diminuire l'operatività dell'impianto stesso perché se piove deve funzionare in ogni caso e questo impianto eviterà gli allagamenti che appunto abbiamo visto anche in occasione dell'episodio che citava lei prima allora qui bisogna spiegare bene che questi impianti servono sempre a mitigare il rischio perché il rischio zero non può esistere perché può sempre succedere un evento talmente catastrofico per cui un impianto realizzato non è in grado di soddisfarlo poi sarebbe anche tecnicamente e ideologicamente non realizzabile sicuramente migliorerà notevolmente la situazione attuale Per chiudere questo spazio dedicato al nostro ospite ritornerei sull'appuntamento di venerdì quali sono i programmi previsti per questa giornata? Sì, oltre a illustrare il sito faremo un focus su due argomenti di criticità delle zone costiere anche della nostra regione con due interventi di ricercatori di livello internazionale uno sul fatto che il livello del mare sta salendo a causa dei cambiamenti climatici due, una cosa forse meno nota che ahimè anche i terreni vicino la costa per un altro fenomeno ogni anno si abbassano di qualche millimetro e quindi questo aumenta contemporaneamente la criticità di difesa idrogeologica delle zone costiere Ed è proprio la cartina che stiamo vedendo il fenomeno della subsidenza al quale lei si stava riferendo più si avvicina al mare più i terreni si abbassano ogni anno Grazie a Massimo Canali per essere stato con noi oggi appuntamento dunque venerdì 25 all'impianto di Bevazzana per scoprire qualcosa di più su come funziona l'impianto e anche su tutte queste tematiche che ci interessano davvero da vicino Rimanendo in zona Lignano un aggiornamento sulle condizioni del Gallo il bassista di Vasco Rossi colto da malore durante le prove del Vasco non stop a Lignano è tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Udine un'equipe multidisciplinare dei sanitari ha individuato un percorso diagnostico terapeutico la prognosi è ancora riservata Andiamo avanti con il nostro Tg adesso e apriamo una pagina sportiva con un servizio dedicato a un'iniziativa denominata Metti il Turbo 12 per un'ora una staffetta benefica a sostegno della squadra di hockey e su carrozzina Alma Madrax di Udine Monica Nardini ha intervistato il capitano dell'Alma Madrax Benedetta De Cecco sentiamo Che cosa consisterà l'evento benefico del 27 maggio? La staffetta Metti il Turbo è una 12 per un'ora ormai questo è già il quarto anno la quarta edizione la formula è sempre la stessa una staffetta squadra dove ogni partecipante deve correre camminare o passeggiare per un'ora lungo il percorso quest'anno ci sono delle belle novità innanzitutto punteremo a coinvolgere le associazioni del territorio dandogli l'opportunità di farsi vedere e di fare delle piccole esibizioni che vanno al contempo a intrattenere i vari partecipanti ma ancora più importante dalle 18 alle 19 ci sarà un'ora di Green and Orange Run ovvero una corsa dove spruzzeremo i colori in polvere come nella famosa Color Run noi abbiamo scelto il verde e l'arancione che sono un po' i colori rappresentativi degli Alma Madrax e l'arancione è quello di Metti il Turbo Quante persone vi attendete alla Parco Ardito Desi e dei Rizzi? Speriamo di confermare un po' i numeri degli ultimi anni quindi circa un'ottantina di squadre per oltre 1500 partecipanti sarà sicuramente un'occasione di festa di divertimento anche per tutti coloro che non sono iscritti come squadra i fondi raccolti per che cosa saranno utilizzati per sostenere le spese dell'attività sportiva che è il hockey in carrozzina elettrica Appuntamento dunque domenica al Parco Ardito Desio di Udine e adesso andiamo da Stefano Giovampietro per proseguire questa nostra pagina sportiva con le ultime novità sull'udinese non solo a te Stefano Eh sì, ciao Angela siamo nella sala stampa della Dacia Arena dove continua quello che è il post stagione dell'udinese dopo lo sponsor day che c'è stato ieri alle mie spalle tra l'altro si sta per organizzare un convegno con i nutrizionisti dell'udinese calcio che spiegheranno un po' tutte quelle che sono le regole da seguire per una buona alimentazione lo faranno qui nella solita attivissima sala stampa della Dacia Arena anche a campionato finito abbiamo accennato a quella che è stata la festa con gli sponsor di Risera nella splendida cornice tenuta di Castelvecchio del Castello di Sagrado una cornice fuori dal tempo che i giocatori dell'udinese hanno davvero molto apprezzato un'atmosfera rilassante per stare comunque questa serata insieme prima del definitivo rompete le righe ragazzi che adesso si riposeranno e poi si daranno appuntamento ai primi di luglio per ricominciare poi la società farà tutte le valutazioni chi sarà confermato chi no se arriveranno nuovi giocatori sicuramente sarà un'estate in pieno di venire ma comunque quella di ieri è stata una serata in cui i giocatori anche hanno detto cose importanti della salvezza raggiunta davvero con grande voglia e molti hanno tantissima voglia di ripartire con la maglia bianconera addosso ne abbiamo parlato con tantissimi protagonisti anche con il direttore sportivo Manuel Gerolin abbiamo vissuto da vicino con lui queste ultime settimane davvero intense in cui la sofferenza la si toccava con mano ma poi tutto si è sciolto nell'esultanza dell'ultima partita vinta contro il Bologna sentiamo le sue parole eravamo tutti sofferenzi non solo io una situazione complicata che non ci aspettavamo perché appunto i primi di gennaio eravamo quasi salvi e chi se l'aspettava una discesa così è certo che l'abbiamo rimediata proprio all'ultima e speravamo appunto di farlo prima e per questo c'era grande preoccupazione aumenta un po' il rammarico l'ha detto anche il Paron che la squadra è stata costruita bene e anche la qualità del gioco espressa nell'ultima partita fa capire che i ragazzi ci sanno fare a calcio però hanno pagato tante variabili negative ma sicuramente il gruppo come ogni anno devo dire da 25 anni è sempre costruito in maniera per rimanere in Serie A come primo obiettivo poi se lavori bene vengono fuori altri risultati e altri risultati interessanti ma sì queste sconfitte possono essere anche un momento di riflessione e lo saranno sicuramente per capire dove abbiamo sbagliato perché sicuramente è stato sbagliato qualcosa in tutti sicuramente i settori i settori tecnici fisici quindi stiamo da tempo analizzando i nostri dati fisici atletici e tecnici per capire dove appunto non fare più gli stessi errori per i prossimi anni queste le parole di Girolin ancora contributi vi proporremo anche nel Tg serale sulla serata di ieri ma non solo cominceremo anche un po' a occuparci di tutto quello che saranno gli altri argomenti dalla primavera e non solo sarà come al solito un piatto ricco che consumeremo nel Tg delle ore 19 per il momento da qui è tutto la linea che può tornare a te Angela grazie Stefano noi siamo in chiusura allora vi lascio alle previsioni del tempo a cura come sempre dell'Osmer Arpa buon pomeriggio a tutti nel corso giornata qualche pioggia sulla costa e poi anche in montagna nel pomeriggio in serata probabilmente qualche rovescio e forse anche qualche temporale in pianura temperature massime intorno ai 25 gradi circa per domani ancora tempo instabile si allontana questa depressione però se ne avvicina un'altra dal nord Europa quindi rimarrà una situazione probabilmente di instabilità che vedrà però più sole in genere sulla regione specialmente nella fase mattina poi nel pomeriggio rovesci e qualche temporale dalla montagna e anche probabilmente poi in pianura e sulla costa temperature massime forse si alzano di un grado o due intorno ai 26 27 le massime nei giorni successivi andando verso il weekend il tempo diventa più estivo quindi aumentano le temperature aumenta il soleggiamento però rimane sempre una certa instabilità nel pomeriggio per cui c'è ancora possibilità che soprattutto in montagna vi sia qualche rovescio qualche isolato temporale nel pomeriggio però in un contesto dove appunto il sole e il caldo cominceranno a dominare saranno la caratteristica dei prossimi giorni che ci porterà appunto da questo weekend in una situazione estiva e ci avvicineremo ai 30 gradi e questo sarà probabilmente poi uno dei mesi di maggio più caldi di sempre forse potrebbe arrivare vicino al valore record quello del 2003 da cui poi l'estate che vi ricorderete è la più calda di tutte per adesso a Grazie a tutti.